Calcio di Serie D, fulmine a Celsereno in casa Chieti. Dopo la vittoria di ieri per 3 a 0 con il Matese, la società ha deciso di esonerare sia l'allenatore Mauro Chianese che il vice Matteo Pizzi. Il tecnico salernitano questa mattina ha diretto l'ultimo allenamento, nel pomeriggio ha ricevuto la comunicazione da parte della società. Il nuovo tecnico sarà Gennaro Jezzo, ex portiere di Napoli e Cagliari in Serie A, l'allenatore ha guidato la Primavera dell'Avellino e dunque anche una squadra bulgara, ma tutti i particolari li trovate sul sito di informazione reteotto.it, anche sui social Facebook e Instagram di Reteotto.